La costante partecipazione dei bandi pubblici, la richiesta di danni per il maltempo che facciamo sempre con meticolosità hanno portato, anche se a distanza di mesi e di anni, molti finanziamenti alla fine di marzo. Abbiamo fatto in consiglio comunale dell'8 aprile la variazione di bilancio di 2 milioni e 2, quindi questa amministrazione ha da correre per spendere questi soldi, per dare gli incarichi, per realizzare i progetti, perché i soldi pubblici quando si ottengono vanno spesi velocemente, perché si dà segno di buona amministrazione. Proprio per questo, già ieri 28 maggio, abbiamo nominato la Giunta, confermando consigli ciriaco come vice sindaco, una figura indispensabile per tenere il collegamento con le persone su tutto il territorio comunale, non solo sul capoluogo. Ho nominato, credo premiandola giustamente, per il suo ruolo svolto nei cinque anni precedenti, Valentina Zucconi, assessore alle politiche sociali. Siccome abbiamo una squadra molto bella e molto affiatata, anche se ci conosciamo, per così dire, da poco tempo tutti insieme, in pratica dal 4 di maggio, Valentina Zucconi ha preferito non accettare la carica di consigliere comunale. Per lasciare entrare la prima dei non eletti, che è Alice Saccagno, una persona che darà sicuramente impegno e valore a questa amministrazione. Per cui abbiamo già fissato il primo consiglio comunale, che sarà l'8 giugno. Se è bel tempo, alle ore 16 ci riuniremo in una delle piacette più belle, che è Piazza Barbuti, che aveva il desiderio di utilizzare già nel 2009, poi proprio a causa del maltempo, la prima riunione del consiglio comunale l'avevamo fatta nel Salone della Casa della Gioventù. Nel 2014 invece abbiamo usato la Piazza dei Canoni, Piazza San Giovanni, per fare la prima riunione del consiglio comunale e il giuramento del sindaco sulla Costituzione. Adesso speriamo che sia bel tempo, la faremo come desideravamo da tempo, in Piazza Barbuti. Sono convinto che riusciremo a spendere questi 2 milioni e 200 mila velocemente, perché sono soldi particolarmente utili per la strada del Val Manubiola, per il ponte su Manubiola-Ghiare da mettere in sicurezza, per tante altre cose, per il gioco bimbi, per tante cose che servono da subito. È anche vero che non abbiamo perso del tempo, neanche un giorno di tempo, per la campagna elettorale, perché ero sempre e giustamente durante il giorno presente in comune per portare avanti le cose, perché fare il sindaco del mio paese mi piace e forse c'è ragione la concita del Gregorio che dice che è il più bel lavoro del mondo, anche se la burocrazia tenta di ucciderlo.